Sanità 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 Su investimenti per innovazione e ricerca relativamente alla cannabis terapeutica Sulla valorizzazione delle professionalità all'interno del sistema regionale di emergenza, urgenza e di pronto soccorso Sugli specialisti presenti in Toscana sia ospedalieri che territoriali Noi abbiamo avuto la legge di organizzazione del nostro sistema sanitario nel 2005, la legge 40 L'abbiamo vista modificare con l'allargamento delle ASL da 10 a 3, quelle territoriali Con la legge 84 del 2015, dopo 10 anni Oggi dopo 7 anni siamo nelle condizioni di perfezionare ancora la legge Quindi andiamo in una riforma del sistema sanitario regionale Cercando di accentuare aspetti che non modificano, non stravolgono l'impalcatura dell'attuale sistema Ma che ad esempio possono dare una maggiore corresponsabilità ai direttori generali per quanto riguarda la programmazione Possono accentuare il ruolo dei direttori dell'ospedale Possono accrescere i poteri dei distretti Visto le ASL grandi e quindi la necessità di decentrare un po' le decisioni sul piano dei distretti E contemporaneamente il tutto si accompagna a un forte ruolo della medicina sul territorio Che vedrà con il piano nazionale di ripresa e resilienza la Toscana avere la possibilità di costruire nuove O adeguare 77 case di comunità, quelle che noi finora abbiamo chiamato case della salute Portando il cittadino magari a trovare nella casa di comunità Dove ci sono ambulatori, specialisti, farmacia, infermieri che poi operano sul territorio come i medici di base E quindi evitare di andare a ingolfare i pronti soccorsi di cui ci rendiamo conto anche in questi giorni E esserci forse l'elemento di maggiore criticità del sistema Noi abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi e quindi è riguardato intanto dei macro temi Che sono le risorse e la necessità di personale sanitario adeguato, formato, motivato Che sono le due precondizioni per svolgere un po' tutta l'attività Poi la grande attenzione da dedicare al tema della prevenzione di tutti i determinanti della salute Che sono l'elemento sui quali si baserà anche la sostenibilità in futuro del servizio sanitario regionale E poi ci siamo concentrati sul tema della governance Dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato analizzando i dati Come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle tre aziende sanitarie Evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio Disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana E rafforzando dal punto di vista personale e di risorse Poi ovviamente la questione riguarda anche la non autosufficienza Il tema della disabilità e l'emergenza urgenza Dove bisogna omogeneizzare sostanzialmente il servizio in Toscana E poi tutto il tema della riorganizzazione del territorio Che con il PNRR richiederà forse la sfida più importante dei prossimi anni Sì, Telavia sostiene il documento degli Stati Generali della Salute Un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale Con tanti operatori del sistema sanitario Per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta Fu molto combattuta, io allora ero presidente della Commissione Sanità Un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano Lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa Grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti Ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi E diventano lungimiranti Queste poi portano dei risultati positivi L'abbiamo visto sotto il Covid Adesso c'è da riorganizzare il sistema Ulteriormente da migliorarlo rispetto alle risposte nuove Che questa pandemia ha fatto emergere Nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono E da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto Fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES Se si va a vedere oggi i tassi di interesse Che livelli avranno, non soltanto adesso ma nei prossimi anni Avremmo dimostrato che quelle risorse le avremmo avuto in maniera gratuita E quindi questo è un po' il rimpianto di oltre 30 miliardi in più Che la sanità avrebbe avuto e ha cascato anche la regione toscana Detto questo le risorse ci sono Arriveranno investimenti, serve personale Però intanto una risposta importante l'abbiamo data La nostra risoluzione che non ci viene permesso di presentarla Viene eliminata perché dice è sovrapponibile all'altra Ma si basa su degli architravi completamente diversi Perché noi vogliamo tre Anziché le tre asle vogliamo le asle provinciali Noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal presidente Gianni Ma sia una concertazione con i territori Quindi con i sindaci, con le società della salute Con la conferenza dei sindaci Noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato Perché ci devono essere due agende Una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti L'altra sarebbe un'accettazione da parte dei reparti Quindi una volta che uno è dentro il sistema Viene in qualche modo gestito dai reparti Quindi non è più una lista di attesa Ma è una programmazione a lungo termine La sanità è uno degli esempi peggiori del malgoverno della sinistra in questi anni in Toscana Non ci limitiamo a votare conto Presentiamo le nostre proposte per una sanità differente Che faranno parte del nostro programma di governo da qui ai prossimi anni Noi riteniamo che la sanità toscana abbia bisogno di migliore efficienza Di una struttura differente, non soltanto di più soldi Se è vero come è vero che per un'ernia inguinale a Careggi si aspettano 208 giorni A Torregalli a 3 km di distanza 103 Non c'è bisogno soltanto di più soldi C'è bisogno di maggiore efficienza e di un'organizzazione migliore del sistema Se è vero come è vero che a Pontedera per una protesi d'anca si attendono 278 giorni Ma solamente 20 al San Giuseppe a Empoli che è a 30 km di distanza Se è vero come è vero che al San Giuseppe si attendono 6 giorni per gli interventi di tumore al colon E a Grosseto se ne attendono oltre 40 Quindi c'è bisogno di più efficienza, non soltanto di più soldi C'è bisogno di più medici E da questo punto di vista noi chiediamo che vengano inseriti nel servizio sanitario Anche i medici laureati e gli specializzanti Ancora prima delle specializzazioni Chiediamo che si possano finanziare maggiore borse di specializzazione Perché sapete che sono molti più i medici che si laureano Di quelli che hanno accesso alle specializzazioni che sono necessarie per entrare a lavorare La Toscana finanza soltanto 34 borse di specializzazione nel 2021 Sono troppe poche, i soldi vanno spesi soprattutto lì È stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità Che hanno affrontato questi due difficili anni di pandemia Ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione Che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione Che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici in alcuni casi Mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali Molti vengono definiti dal MES che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio Sulla qualità del sistema sanitario toscano Però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività Perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione Sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte Che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura E soprattutto manca un'ammissione di errori fondamentali Che negli ultimi anni, grazie anzi a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori Coperti come razionalizzazioni, hanno sofferto moltissimi settori della sanità La sanità territoriale, le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal Governo con la Ministra Grillo I posti letto che sono stati anche quelli tagliati Insomma una sanità che se oggi soffre più del necessario e non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo È colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato come quella delle Maxi Asle Più volte criticate su cui mai e di come mai si è tornati indietro nemmeno in questa proposta di risoluzione Occorre a snellire le liste d'attesa immediatamente Dare la possibilità ai cittadini di essere curati in tempi certi Fare una convenzione col privato immediata per snellire tutte le liste d'attesa Occorre potenziare, lo ripeto, potenziare la sanità territoriale Le case della salute, potrei fare diagnostica lì dentro Fare una riforma del 118 vera Non come quella che è stata fatta sacrificando i tanti medici e i tanti infermieri A quali va il nostro ringraziamento perché hanno passato due anni a sostenere la sanità italiana In particolare la sanità toscana Poter fare diagnostica all'interno le case della salute E finalmente premiare il merito Basta con coloro che fanno carriera perché hanno una testa di partito in tasca Noi vogliamo primari e medici bravi e che meritino il loro posto Noi pensiamo che debba essere fatta una riforma seria del sistema sanitario A partire anche dalla riforma dei medici di base Che dia una risposta immediata ai tanti bisogni Usciamo da due anni difficilissimi dove anche le richieste di diagnostica sono aumentate In particolare il 40% sulle visite cardiologiche Non si riesce a prenotare Il CUP non funziona Ecco i disservizi della sanità Dove noi come regione ci mettiamo 8 miliardi di euro Fronte di quegli 8 miliardi di euro Noi vogliamo un sistema sanitario che funzioni Sicuramente la commissione ha fatto un lavoro quanto mai opportuno Nel momento in cui ci si approccia comunque ad intervenire sugli aspetti più critici della sanità toscana Hanno voluto fare una fotografia e quindi dare poi degli indirizzi alla giunta È chiaro che è un tema assolutamente complesso Sul quale però ci sono alcuni aspetti che meritano di essere rilevati Anzitutto il concetto di prevenzione Un concetto di prevenzione che è assolutamente condivisibile Più si previene Quindi più si favoriscono anche forme di educazione Stili di vita Consumi consapevoli Meno si accede al servizio sanitario E questo deve essere l'obiettivo Perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza È chiaro che ci sono altri aspetti poi La questione ad esempio delle aree interne Noi abbiamo una Toscana che presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari È chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia Che quindi ha necessità di avere determinati servizi Quanto più possibili di prossimità Dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie Che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato Ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici Noi abbiamo in Toscana una media di mille bambini a pediatra Nelle aree della provincia E questo non è assolutamente accettabile Quindi io mi auguro che anche le nuove strutture Che dovrebbero arrivare con il PNRR Quanto meno siano calibrate su ambiti di servizio ottimali Per far sì che effettivamente ci sia un bacino di utenza sufficiente A giustificare quel tipo di investimento Su questo io mi aspetto ci siano delle risposte forti da parte anche dell'assessore Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!